Benito della Penna, Valerio De Torre, Luca Spoto, Cesare Benedetti. Sono solo alcuni dei 462 nomi di persone scomparse nella nostra regione di cui non si ha più traccia. Circa 10 casi all'anno solo in Abruzzo se si conta dal 1974 ad oggi, numeri che diventano giganteschi se si allunga lo sguardo. In Italia quasi 48 mila i casi risolti, sempre nello stesso periodo di tempo. Sulla sparizione delle persone però c'è una nuova legge del 2012 ed anche una nuova sensibilità che cresce. Lo testimonia il protocollo d'intesa firmato questa mattina all'interno dell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara a conclusione dei lavori del convegno organizzato da Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, e dall'Associazione Penelope per approfondire il tema della tempestività delle ricerche, fondamentale per avere speranze di successo. E oggi con l'Associazione Penelope che da anni ormai lavora efficacemente nel campo delle persone scomparse, cerchiamo di dare un supporto per favorire un'attività precisa dei giovani legali nel primo momento in cui emerge una situazione di potenziale scomparsa anomala di una persona. Quindi attraverso questo protocollo che a livello nazionale noi cercheremo di far sì che tutti gli avvocati facciano iniziative ove possibile finalizzate a stimolare la conoscenza del problema. Ma soprattutto si faccia anche formazione, in quanto è una normativa nuova, direi nuova un po' per tutti. Nessuno di noi l'ha studiata all'università, quindi ci sono stati regolamenti nuovi, leggi nuove, che è opportuno conoscere sia per ben consigliare i familiari delle persone scomparsi, sia soprattutto per fare anche da impulso. La sparizione è un dramma soprattutto per i familiari, una sofferenza che si legge benissimo negli occhi di chi aspetta da anni la verità sul destino del proprio caro, come Vincenza Benedetti e Rosanna della Penna. È una cosa brutta, ha perduto un fratello, perché a Mangano gli mancava niente, stava insieme a noi, ci stavamo sempre dietro perché sapendo che lui non stava bene. E quel giorno che era il 21, che è ritornato mia amore dall'ospedale, che si è messo tre bypassi, gli stava mettendo il cirotto, ho sentito il cangello aperto, sono andato fuori, ho preso la macchina ma non l'ho ritrovato. Dalla mattina alla sera proprio niente, siamo per il centrale, c'ha perso, siamo andati da tutte le parti. Niente, 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 niente. Non ho che dire. E me lo pensiamo davanti agli occhi. 84 anni, non è che un ragazzino. Io vorrei che pure una scheggia di corpo che riuscisse, uno fa il funerale, ma in queste condizioni non ci può vivere. Ci è stato detto, non si preoccupi in giornata, lo troviamo, dove vuole essere andato, nelle condizioni sue. Invece papà non si è trovato. Hanno visto, sì, nel raggio di un chilometro, lungo le strade, un 4-5 chilometri, però non è stato trovato. Io ho provato a dire allargate le ricerche perché mi è venuto il dubbio su una strada che papà qualcuno abbia preso.